non fate il sorriso, voi ti mi fanno andare per te ciao ragazzi ciao 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 aspetta i garzoni 1 2 e 3 via oh 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 vai a sottare adesso va con la destra sottacco via 1 2 3 via oh 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 dai via 1 2 3 via oh 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 Sì! 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 e come gli dici come si chiama e maria ok va bene aspetta un minuto a il vieno viene o rischio che ammazza che ammazza vai vai Francesca ma dai yogurt va bene ma piccione che era che era cosa faccia beh vede fare no no risparmi la batteria no no ahahah 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 eee 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 ahahah no fino a su eee che gruppo è? non lo so il gruppo dei matti il gruppo dei matti come ha detto che il gruppo dei matti dai guarda scusa oggi questa signorina compie appena pochi anni guarda auguri a Tristiana che oggi compie gli anni auguri eh tanti auguri a te no dice nessuno no tanti auguri cantati ci parca che racconti? eh niente bene 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 tutto a posto ti trovi bene? sì buon compleanno guarda 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 buongiorno buongiorno tutto a posto Pacifica bellissima bene ok vogliamo nell' 80 guarda 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 arriva fino a questa Scusate Nessuno che dice se sbaglia 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 Nessuno che dice se sbaglia